Salve a tutti, sono con Simona Pollera, classificatasi al primo posto di una dottomitogramma in questa edizione del San Carlo. Com'è andata? Andata meravigliosa. Raccontaci della tua gara. Quando incontri hai fatto, con tre combattimenti? Ho fatto tre combattimenti, di una di italiano. Di dove sei? Roma. Di Roma? Sì. Come ti trovi con il tuo gruppo? Giordano, tra le feste, di bianco. Di a tanto? Beh sì, è importante stare dove ti trovi bene, dove... Ti vedremo ai campionati dell'inastro. Sì, sì. Allora in bocca al luto? C'è fatto anche. Allora in bocca al luto? E, come ti conto, concludiamo le interviste di Sempletario Pollo. Di sapprezzami, lo fa di Italia, Link. Grazie. Grazie a tutti